ciao a tutti e bentornati qui sull'island live adesso voglio scaricare questa prima vediamo se si mette avanti nel frattempo abbiamo finito il contratto sul 77 che è una bella cosa adesso colleghiamo il campo alla rete di autodrive e poi lo mandiamo su un altro campo dove c'è un'altra missione di Fertility Zone allora spero che riesci a passare mentre si carico lo spazio ci dovrebbe essere i trattori sono arrivati sì ops ah oio questo è bello pieno sul giro abbiamo fatto il pieno dai ferma lì allora facciamo una cosa facciamo passare quello avanti dai e questo glielo mettiamo dietro ok adesso lei in po' di tempo se lo prende ah forse non è stato il massimo sto questa missione qua su questo campo perché non finisce più però ormai l'abbiamo fatto però ormai l'abbiamo fatto allora tu dopo torni in farm ingresso dai così chiudiamo anche la la missione quella delle balle altrimenti rimane aperta non vorrei che che è allora 34 di sicuro non c'è se li ho ma vediamo un po' ah ma se mi veniva prima questa cosa qua potevo farlo anche un paio di puntate fa però mi è venuta adesso l'idea è partito allora devo scaricare prima che loro si girano così che arrivano di nuovo a metà al ritorno veloce 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 ce l'ho fatta prima che mi scappa via adesso l'altra si dovrebbe fermare lì sì un po' tutto wow guardate un po' che giro che fa per andare ad attaccare la dietro allora questo però adesso lo lascio qua tanto non mi serve più sì qua sembra che ballano fanno un bel balletto ballo 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 guardate che aspetta finquanto non c'è la distanza giusta e dopo riparte ok allora qui siamo sul 77 vediamo un po' registriamo il percorso perché così almeno me lo trovo per la prossima volta allora la riesco ad uscire ok vediamo se trovo anche un punto d'entrata mi sembra che qua qualcosa ci fosse vediamo sì allora 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 speriamo che non viene il treno ma ammazza prima di finire di registrare il percorso allora e cosa stavo dicendo io cosa stavo dicendo e e e e e e e e wow a pelo oh ragazzi questa sì che è stata una botta di culo all'ultimo minuto allora vediamo un po' sì va bene così no dritto please allora andiamo avanti fino a dove c'è l'altra uscita direi che qua va bene qua il campus 77 se non sbaglio sì però potevo metterlo da qua no va bene anche lì va bene anche lì ok qua i puntini e boh allora sono andato a vedere Marco cosa ho scritto perché vediamo un po' qualcuno mi ha lasciato un qualcosa che non ho visto ragazzi ho sentito solo il rumore dai mi si è bloccato qua e allora mettiamolo qui mi sa che l'alert il costo dell'alert lo devo fare un po' più grande perché non lo vedo mai ok questo è a posto va bene ok ciao Nick benvenuto non so se sei stato tu che hai fatto qualcosa con perché mi è arrivato un alert oh beh allora grazie per il follow perché non ho visto l'alert che è venuto fuori non so neanche ho sentito solo il rumore dell'alert però non ho visto se è venuto fuori il il segnale non lo so non so se voi l'avete visto ma io non l'ho visto allora mi recco lì che scarico la mia MT3 bias oh oh è pode Grazie a tutti. Beh, non arrivano mai? Ok. Dove sono? Lì. Mi sa che mi devo andare a vedere il video se il coso che viene fuori c'è o non c'è. Allora... Il campo 77 è finito. Potremmo anche incassarci i soldi nel frattempo. Becchiamo gli sgay. Eccolo qua. Raccogli. Che sono i 90.000 che abbiamo restituito il prestito. Che mi sa proprio che vado... L'ho attivata la mod. Vediamo un po'... No, non è qua. Non mi scarico l'altra. Mentre scarico l'altra metitrebbia. Vediamo se ho attivato la mod e che mi posso andare a comprare la roba che ho noleggiato. Così almeno... Non pago... Continuo a pagare il prezzo del noleggio della mia metitrebbia. No, qua. Noleggio. Purchas. Questo dovrebbe essere quello per comprarla. Per la modica cifra di... 430.000. Non ce l'ho neanche i 430.000. Scusa. È nuova? Quanto costa? Non è lei. È lei. Oh, per risparmio 50.000. Ma sai quanto gli hanno dati già di soldi per il noleggio? Una tonnellata. Dov'è? Qua. Noleggio. Vediamo un po'. Vi ho dato già 130.000 euro di noleggio. Vacca trota. Mi sa proprio che lo andiamo a comprare subito. Adesso facciamo una cosa. Che facciamo un bel finanziamento di un milioncino. Compriamo questo. Compriamo anche il coso che serve per... Fertilizzare e irrigare. Perché anche quello è a noleggio. Così... C'è... 130.000 euro di noleggio. Porca trota. No, no, no. Impossibile. La trota. Sì, la trota la mangio. Una volta ogni tanto mi viene anche di mandarla a cagare. La trota però la mangio. Un po' troppe lischi per i miei gusti. Però se è porca la trota va bene. Lo do un poco anche a lui. E andiamo a... Entriamo subito qua. Qui. Take long. Che interesse mi fa? È 3,6. Dio bo... Che strozzino. Allora, sono 10.000, 100.000, 1.000.000. Periodo? Facciamo un anno, dai. Quanto mi viene? 80.000? 1, 2, 3... No, sono 10.000 questi, ciccio. Ah, per quello. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80.000 al mese. No, facciamo due anni, dai. Perché poi quando ce li ho, li restituisco subito. Sì, va bene così. Take long. Andiamo qui. Andiamo a comprarci la roba. E compriamo. Questa. Sì. E questo. Ok. Altra roba a noleggio, cos'ho? Eh, questa, questa mi serve. Beh, quello del diesel non costa... Quello non mi rovino con quello. Più avanti quanto attiverò l'altro coso. Mi va bene quello. No, allora, la trota è bastarda, eh. E' un po', un po' una rottura. Dove va quello? No, è un po'. Dai, scarica. Prima che entri là dentro. Così loro sono a posto e io mi posso occupare da mettere in funzione l'altra missione. Adesso comunque abbiamo due mieti trebbi, che non è niente male per fare sti lavori qua. Più avanti ce ne vorrà qualcun'altra, altri trattori. Qua su questa mappa ci vuole, ci vuole tanto materiale. Qua su questa mappa ci vuole tanto materiale è grande. Qui le dimensioni contano. Che la dimensione conta qua? Beh, ce n'era poco, non ce n'era tantissimo. Allora, vediamo. Questo sta aspettando. Qua avevamo registrato il percorso, no? No, qui. 77. Sì, ok. E l'uscita ok. Allora, l'altra missione dov'era? Sul 113. Guardate che tipo qua. 113. È tutto da un'altra parte, il 113. Dov'è? 113. La polizia. 115, 100... Calani, ok. Calani, 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 calani. Dov'è? Calani, mil. Adesso lui si faccia vedere il percorsino. Ok, è noio. Oh, il camion, questo è arrivato. Oh. Possiamo finalmente andare a raccogliere quelle cacchio di balle che abbiamo sul campo... Mi ricordo adesso qual era. Ma lo troverò. Allora 87 Ok, vamos a campo 87 che adesso raccogliamo le balle Così almeno finiamo quella missione che ce l'ho attiva da un bel po' Mi sono rotto le balle Adesso aspettiamo se dovrebbe farcela uscire dal cortile, però non sono sicuro Perché questo rimorchio non è 12 ma è 15 metri Vediamo Aspetta, ma la velocità tra queste cose quant'è? Ok ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata sempre qui sulla Island Life Salutone, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti